Ciao, sono Francesca e faccio parte del consiglio direttivo di videoripetizioni. Abbiamo creato questa associazione non profit perché crediamo nel fatto che la cultura debba essere condivisa in maniera completamente gratuita e in completa libertà di condivisione. Attraverso il nostro portale www.videoripetizioni.com potete trovare degli approfondimenti su qualsiasi materia, come ad esempio l'informatica, la matematica, la storia, quello che volete. Inoltre potete anche trovare delle soluzioni a problemi che magari vi si presentano tutti i giorni con delle applicazioni che magari non siete in grado di usare. Siamo a vostra completa disposizione attraverso la pagina Facebook, il canale YouTube, il profilo Twitter e quant'altro. Ci trovate quindi praticamente in tutti i social media. Vi invito a iscrivervi numerosi perché a me per esempio ho risolto problemi di tempistiche in quanto magari dovevo studiare e non avevo tempo, mi guardavo una video ripetizione e facevo subito, ero pronta. Vi aspettiamo numerosi, ciao ciao!